Ben trovati con il nostro appuntamento settimanale in cui facciamo la sintesi di quelle che sono le notizie principali riguardanti la squadra del Lecce. Dunque si conclude una settimana più che positiva per i giallorossi, i quali vengono da due vittorie consecutive contro Gremonese e Vicenza. La gara con i Lombardi in particolare domenica sera non è stata propriamente esaltante dal punto di vista della prestazione. Tuttavia i ragazzi di Baroni sono stati bravi a crederci fino alla fine e negli ultimi dieci minuti finali con il risultato di 1-1 sono arrivate diverse occasioni prima del gol. Da prima con il colpo di testa di Dermaco e poi con la splendida giocata di Marsilis Toschi. Doppio palleggio e la conclusione in acrobazia deviata da Ocoli. Lo stesso difensore italiano sarà poi il protagonista dell'autogol su cross di Antonino Gallo che consegnerà la vittoria ai Salentini. Il Lecce che è tornato in campo mercoledì sera per il recupero della partita con il Vicenza. Una gara senza storia con i Veneti che fondamentalmente non hanno mai visto palla. Il Lecce è andato in vantaggio nel primo tempo con gli Stoschi su splendido assist di Coda e poi con lo stesso Bomber Campano subito dopo. Nel finale poi Mergiorini ha accorciato le distanze ma fondamentalmente è stata una vittoria più che meritata. Tre punti e primo posto per il Lecce. Campionato che poi riprenderà fra due settimane con Cuomo-Lecce. Quanto alla questione mercato in cui proprio in queste ore i dirigenti giallorossi sono a Milano. Dunque settimana scorsa abbiamo parlato di un mercato chiuso per il Lecce. Ma in realtà i vertici dei Salentini stanno valutando a seguito degli infortuni di Marco Bleve. Il secondo portiere di Pablo Rodriguez è la cessione di Olivier, riaggiungiamo. Probabile, se ne sta parlando in queste ore. Stanno valutando l'ingaggio di un secondo portiere. I rumors danno il milanista Pizzari in procinto di trasferirsi nel Salento. E poi si valuterà la possibilità di ingaggiare un esterno. Ma per il momento non c'è nulla di ufficiale. Sul fronte uscite, ieri è stata ufficializzata la cessione dell'esterno offensivo Luca Paganini all'Ascoli. Mentre nei questi giorni si tenterà di piazzare gli ultimi esuberi rimasti sono Benzarber e Pisacane. Presumibilmente si tenterà almeno di cedere i primi due. E questo porterà un ulteriore alleggerimento per le casse economiche del club di via Colonnello Costa Dura. Dunque questo è tutto, ci vediamo la prossima settimana.